Quello che il pubblico può vedere sono le pergamene restaurate da me restaurate a Firenze con tecniche molto conservative e delicate rispetto alle tecniche tradizionali utilizzate in Italia e in Europa. Le pergamene restaurate sono state arrotolate, tenute arrotolate per più di mille anni. Il loro restauro è stato deciso, diciamo in accordo con gli archivisti, è stato eseguito in modo molto conservativo e delicato. Utilizzando materiali come la carta giapponese, veline, adesivi di origine naturale al posto delle tecniche tradizionali che si usano in Italia utilizzando pergamena, adesivi di natura sintetica, ecc.